qui tocca riprendere il panorama ragazzi guardate che roba iniziate? sì yes spai metta la mascherina occhio di zia dietro sta in video tizia vai avanti ti faccio il video vai passa a sinistra vai 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 posizioniamo bene i piedi e via vedi avanti si ci sono che qui partiamo da 3004, 3002, 3004, non mi ricordo che scendiamo fino a giù panorama ragazzi è qualcosa di indescrivibile, purtroppo il video sicuramente non renderà, ciò cose che si possono guardare solo dal vivo quindi io vi consiglio di venirci almeno una volta nella vita qua alle desalpe perché ci sono attività di tutti i tipi, parapendio, bicicletta, c'è di tutto, trekking di tutto forse l'unica cosa che non c'è sta è il calcio ma tanto a noi ci frega ragazzi perché il calcio fa schifo porco che pietraia questa era va a 60 all'ora forse 50 non lo so madonna mia ma pensavo che stava con noi questa no ma ho frenato perché pensavo che stavano a fermare invece erano altri ma tu mi sei preso più ma mamma mia che è ma ho riuscita ma ho riuscita il muro via 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 Sì, c'è un po' di più. bene ma non ne vai vai tranquillo vai itchia vai itchia vai itchia vai itchia vai itchia ragazzi diagonale bici a monte vai è una cosi non vale vale ah qui è proprio questo è libera Grazie a tutti. Come va? Sto a lasciare sempre più i freni. Ora facciamo il troppo quello che avevate paura, che ne avevate visto. Quello è in discesa. Iniziano? Mi sa che c'erano dei signori in mezzo e andavano piano, può essere che sta dietro. Poi io so dovevo passare sopra una montagnetta per passarla. Ok? Vado io? Che guai, a te lo gioco. Il marchio è troppo. Ah, ok. Allora, come si fa questo caso? Il primo scalino, un po' di sella, rallentando senza mai bloccare la ruota. Rallento pure sul secondo palancone. In uscita alzo leggermente l'anteriore, lascio i freni e poi rifreno per fare la curvetta. Ok. Vai Manuel, piano piano, fai vedere le modalità easy. Così, morbido, lascia e ferra. Alleggermente l'anteriore. Vai! Vai! Ti faccio un video, eh! Capito? Sì. C'è carichia. Qui è proprio meno simile l'approccio a quello dell'altro. Questo è solo che stai già in pendenza. Devi sempre alleggere leggermente l'anteriore. Vai Tizia, quando vuoi. No. Quel rumore non deve esserci. Vai. Vai. Tizia. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Che c'è qua? Ah qui si sbuca qua? No 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 Allora adesso facciamo la led Ok Ripita Curve in discesa con scalini Rocce, radici Potrebbe essere scivoloso Guidade morbidi Aprite le curve Ok Ci sta un pezzo un po' più dritto Il ripido con un po' di scalini Morbidi Tu controllate la velocità Non sopra le radici Non sopra i sassi Dopo? Appena c'è un po' di libero Frenate Ok Non frenate sulle radici Che rischiette parte Vi do le linee Ok? Vai 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 Sì 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 né Aspetta Ci segni Zia Vai 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 Sì, sì, sì. Eccolo, eccolo, ecco Tiziano, ce la diceva, vai, vai Tiziano, avanti tu, se sto lontano stavolta, la prossima volta mi ha riempito del merda. La prossima volta mi ha riempito del merda. La prossima volta mi ha riempito del merda.